Music, news, sport, every day for you on the web, lekochannel.it, the blue light, blue radio. Sì, gli altri non giocano, quindi c'è questa possibilità, è chiaramente un campo molto difficile, è una trasferta delicata, dove abbiamo questi tre punti in palio, vediamo di andarceli a prendere, vediamo quanti ne riusciamo a portare a casa. Sembra passata un'era da quello che era un mese fa, anche perché passeranno esattamente 30 giorni da una all'altra gara, se una in questo novembre, a differenza vostra conosciuto, una fase di semicrisi, chiamiamola così. Sì, infatti penso sia molto decisiva, soprattutto per loro, perché chiaramente trovarsi a 12 o a 6 punti da noi cambia molto quello che può essere l'esito della partita. Per noi c'è questa chance da cogliere, da cercare di cogliere con grande lucidità, con grande consapevolezza, però con tranquillità anche. Quanto incide l'assenza di Virdisi su una partita del genere? Incide molto perché è un bomber importante, è un giocatore d'area, però ci hanno altri giocatori validi davanti, quindi dobbiamo sempre stare attenti. Capitolo infortunato, recuperi Carboni, si va per la scelta conservativa e una domanda anche su Peretz di cui si è tornato a parlare in qualsiasi fine settimana più per quello che è stato il suo aspetto extracampo. Peretz dobbiamo aspettarlo, deve mettersi a posto con calma, c'è questo problema a lungo periodo, noi siamo qui, lo aspettiamo, quando starà bene rientrerà. Carboni lo abbiamo invece conservato, diciamo così, quindi si sta allenando col gruppo ed è disponibile, pronto a dare una mano. Riavrai l'ella, un bel peso là davanti in più. Sì, mi prenderò io il rischio eventualmente di utilizzarlo, è ancora un po' 50-50, però sarà in panchina, sarà pronto a dare una mano e a entrare se serve. Su Ruyo invece? Ruyo è nel gruppo, si sta allenando, serve tranquillità, però adesso è quasi a posto, insomma, ecco, io non so se a Milano o comunque con la Saremese sarà anche in panchina. Grazie mister, buon lavoro. A voi. Musica News Sport Every day for you on the web. Leco Channel.it The Blue Light Blue Radio